la macchina che segna meno due gradi centicladi la neve che ciocca guardate cade la neve come una canzone di negramaro guardate 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 questa bella noi abbiamo la neve noi abbiamo la neve e voi no e noi abbiamo la neve e voi no e voi a cicciare ci mi dite rock noi che avete un po un po di ciucamma un po di ciucamma che non quaglia invece qua quaglia noi quagliamo la staffa venite ad averla a farvi una settimana a bianco venite che qua siamo attrezzati con le baite con le piste da sci con le pulmiglie venite un attimo che speggo la macchina comunque sapete perché sto facendo questo video perché in post scende perché fa fritto che sta la best e quindi moro in frattempo dormo in macchina per organizzo cast ufarello mi schio mi schio mi schio qui e mi addormentano sono qui per augurarvi una buona fine un'ottima fine e uno strepitoso inizio 2015 mi raccomando domani mega aperitivo al tiffany club va bene così come siete venuti a natale alla vigilia vi aspetto domani numerosissimi per la vigilia di capodanno mi raccomando da mezzogiorno alle 18 va bene sciabagneria dolceria delizie varie rosticceria proseccheria divertenteria va bene vi aspetto dalle 12 da mezzogiorno alle 18 per l'aperitivo ok un bacio buonanotte e niente voi non ce l'avete la neve noi ce l'abbiamo se volete proprio farvi una sciata venite ad avella perché io ovviamente sponso lì sul mio paese un bacio fresco fresco eccolo qua eccolo qua eccolo qua Grazie.